Si dice che partire è un po' come morire, ma spesso è più difficile restare e soprattutto ritornare. Persone che hanno lasciato la loro terra per studio o per lavoro, altre che invece ad andarsene proprio non ce l'hanno fatta e fuori sede, tornati a casa per un po', dopo un anno di fatiche, per godersi le meritate vacanze. E soprattutto a loro che è stata dedicata l'iniziativa organizzata ad Andria dall'Associazione Materia Prima e dal gruppo consigliere regionale Emiliano Sindaco di Puglia. Si chiama Festa del Ritorno, il primo evento pensato per dare il bentornato in patria agli andriesi che vivono fuori e al tempo stesso riflettere su un tema particolarmente toccante ed attuale, specie nel Sud Italia. Una lunga serata piena di ospite ed appuntamenti, a cominciare da un talk dal titolo Storie di chi resta e di chi torna. Sul palco di Vicolo Bonghi, nel cuore del centro storico, quattro giovani pugliesi che grazie ad un'idea sono riusciti a rimanere o a tornare nella loro terra. È un momento di grande allegria perché questi ragazzi, ma anche non ragazzi, perché non stiamo parlando soltanto dei fuorisedi attuali, ma stiamo parlando anche di chi ha fatto una scelta anche anni fa di tornare nella sua terra, hanno necessità, bisogno che la loro terra li accolga per quello che sono, per quello che costruiscono fuori e questo ritorno non è il ritorno di chi fa soltanto esperienza fuori, ma di chi si costruisce una preparazione, una professionalità, un bagaglio per metterlo a frutto. Se questo frutto può, in modo diretto o indiretto, in modo virtuale o in modo reale, tornare alla terra che li ha generati, questo arricchisce la terra, ma credo che arricchisca anche loro perché, come diceva il grande Don Tonino Bello, le radici sono la parte più importante di noi. Le esperienze dei ragazzi hanno fatto da apertura alla manifestazione, che è proseguita con un monologo teatrale, pensato, scritto ed interpretato dall'attore Vittorio Continelli. Un viaggio fra i racconti della mitologia greca sulle tracce dei ritorni più mitici e memorabili. E in chiusura, spazio alla musica del cantautore e scrittore tarantino Daniele Di Maglie, che ha trasformato in note molte storie di lavoro, sacrificio, sconfitte e riscatto. Storie di un sud, di una Puglia, che spesso siamo costretti a lasciare, ma che non lasceremo mai. Il nostro augurio è che essi tornino dopo aver imparato, ideato, inventato, sognato e quindi restituiscano alla Puglia le loro energie e la loro voglia di fare. La festa del ritorno è una modalità attraverso la quale fargli sentire l'amore di casa, diciamo, e sperando che abbiano la possibilità di continuare la loro vita qui da noi. Certo, il mondo è bellissimo, è vario, è pieno di stimoli, però anche le nostre città in questo momento sono luoghi dove la qualità della vita, sia pure faticosamente, sta continuando a crescere. Poi questa parte della città di Andria è davvero strepitosa e quindi io mi auguro che questi ragazzi abbiano delle idee per far diventare ancora più grande e importante la loro terra.